Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Oggi vi presento un po' il mio Python Pro. No, non direi che è un video di unboxing, perché mi è arrivato qualche settimana fa e io già ci ho fatto i miei primi esperimenti. È un video di presentazione di questo dispositivo che ritengo molto interessante, ma purtroppo non ancora pronto per un uso quotidiano, almeno per un uso come smartphone, come telefono. Siamo ancora ad uno stato di beta, il software è beta, per cui ci sono tanti problemi. Se anche a voi interessa questo dispositivo e pensate che, vabbè, in fondo non ci fa nulla, i problemi si risolvono, siete degli smanettoni, beh, pensateci ancora un po'. Il problema non è essere beta tester per un'interfaccia grafica che può dare dei problemi, il problema è se la cosa non è risolvibile per quanto riguarda, ad esempio, le chiamate. E a quel punto avreste un dispositivo che non va bene per le chiamate, quindi un telefono che non va bene per le chiamate. Quindi io vi consiglio di aspettare in quel caso, altrimenti lanciatevi pure voi in questa avventura. Comunque, apriamo la sua bella scatola bianca. All'interno abbiamo un piccolo manualetto, un foglio protettivo, adesivo, non so se si vede, questo è il secondo perché il primo già è stato applicato. Poi abbiamo il Python Pro Explorer Edition, come vedete è uno smartphone di dimensioni medie, che è un pochettino spesso, ma abbastanza leggero. E infine abbiamo un cavo USB rosso. Bene, i miei esperimenti li ho fatti su Mobian, che è una versione Debian per il mobile, ma adesso ho installato Mangiaro ARM con interfaccia Plasma Mobile. Sapete, sul desktop abbiamo KDE Plasma, come ambiente desktop, e qua c'è Plasma Mobile. Successivamente instalerò anche Foch, un'altra interfaccia, e quindi vi mostrerò un po' entrambe le interfacce grafiche. Lo sto aprendo perché voglio mostrarvi cosa c'è di interessante all'interno. Beh, intanto che possiamo togliere e quindi sostituire la batteria, cosa al giorno d'oggi impossibile sulla maggior parte dei dispositivi, e poi avvicino un po' per farvi vedere questi switch, queste levette, non so se le vedete, sono abbastanza piccole, sono sei, e vi consentono di spegnere fisicamente i componenti hardware, ad esempio la camera, fronte e retro, il microfono, il wireless, il modem, e quindi sono molto importanti per la privacy. Comunque io adesso lo accenderò e vi mostrerò Mangiaro ARM in versione Plasma Mobile. Siamo al primo avvio di Mangiaro ARM Plasma Mobile, scorrendo verso in alto posso sbloccare lo schermo, inserisco il pin, semplicemente 1, 2, 3, 4, ho inserito per semplicità, ecco, la schermata principale si presenta in questo modo, scorrendo verso sinistra abbiamo la lista delle applicazioni. Abbiamo anche Fish, che sarebbe il browser predefinito, non l'ho mai aperto, mai usato, abbiamo DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito, ad esempio scriviamo ciao, ecco qua, va bene, chiudo, è possibile chiudere qua con questa X in basso, scorro di nuovo verso sinistra, poi abbiamo la calcolatrice, una normalissima calcolatrice, ad esempio scrivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 per 9, che dà una serie di uni. Giustissimo, va bene, chiudo anche questo, oppure posso premere qua in basso a sinistra per avere la lista dell'applicazione aperta, non ce l'è nessuna aperta, quindi presumo che posso chiudere swippando verso l'alto, sì. Poi abbiamo il calendario, eccolo qua, chiudo anche questo, poi ancora Clip, che è per vedere dei video, Clock, l'orologio, e quindi la sveglia, Discover, che come sapete è l'applicazione per gli aggiornamenti e per installare nuova software, Elisa, che è un player audio, quindi per la vostra collezione musicale, poi un file manager, abbiamo KDE Connect, per connetterti al tuo PC, Coco, che immagino che sia per delle immagini, sì, ma non ho nessuna immagine, ovviamente, poi ancora Megapixel per la fotocamera, ma credo che non funzioni allo stato attuale, non funzioni molto bene, vediamo un po', beh, non so se riuscite a vedere Comunque, sì, funziona, solo che la qualità è molto scadente, va bene, cos'altro? Nota, per delle note, ocular, per i PDF, phone, non so se già ve l'ho detto, ma l'ho testato proprio come telefono, e purtroppo si hanno dei problemi ogni tanto nel ricevere chiamate, e anche la qualità audio delle chiamate è scadente. Quindi, niente, se anche voi siete interessati, non fatevi prendere dalla foga di acquistarlo, ma magari seguitene lo sviluppo, vedete quali sono i problemi noti, e aspettate un po'. Non pensate, tanto sono uno smanettone, risolvo i problemi, beh, tutto dipende dallo stato a cui siamo arrivati attualmente, se siamo ancora ad uno stato per cui il telefono non è pronto, beh, non è pronto, c'è poco da fare. State tranquilli che vi aggiornerò appena riuscirò ad utilizzarlo, ogni giorno, appena riuscirò a sostituire il mio attuale smartphone. Bene, adesso installo Foch, così vi presento anche Foch, che ritengo un'interfaccia grafica più stabile. KDE Plasma e Plasma Mobile è gradevole, devo dire, però Foch mi sembra più stabile. Va bene, quindi ci vediamo tra poco. Ok, siamo ad un primo avvio di Mangiaro ARM con Foch, quindi sblocco lo schermo, scorro in alto, la password, il codice predefinito è 123456, sblocco, e questo è Foch, basato su Gnome. Se scorro in basso, abbiamo qua le impostazioni per la luminosità, per l'audio, per il wireless, eccetera, e anche qua abbiamo ovviamente una app per le chiamate. In questo caso, per chiudere, bisogna scorrere in alto e poi troveremo la lista delle applicazioni aperte. Se scorro in alto così, la chiudo. Poi, per i messaggi, Firefox come browser predefinito, quindi Firefox per il mobile, magari lo apriamo, ci vorrà un attimo. Ecco qua, un po' strano vedere Firefox per il mobile, sembra in tutto e per tutto il Firefox a cui siamo abituati sul desktop. Ad esempio, schifo ciao, motore di ricerca Google, va bene, ma si può cambiare. ok, chiudo anche questo. Poi abbiamo i contatti, un gioco, 2048, il software center per raggiungere nuove applicazioni, poi cos'altro, il gioco di scacchi, il calendario, la calcolatrice, magari questa la guardiamo, addirittura mi si è aperta la tastiera che non mi serve. Ecco qua, anche qua scriviamo, non lo so, 8 per 2 uguale a 16, va bene, apriamo qualcos'altro. Beh, console, il terminale, non ve l'ho ancora mostrato, c'è ovviamente anche su Plasma Mobile, stiamo parlando di un vero e proprio sistema operativo GNOLinux, quindi insomma, avete un vero e proprio computer portatile che potete utilizzare come un vero e proprio computer, magari lo collegate ad un monitor esterno, ad una tastiera, potreste addirittura installarci Blender, fare del rendering video, non so chi è così pazzo da fare qualcosa del genere su un dispositivo mobile, su uno smartphone, ma in teoria è possibile, certo non avrete le stesse prestazioni che ha un computer più potente, più performante. Quindi, cos'altro abbiamo? Document Viewer, Fractal, non so nemmeno cosa sia, Giri per le email, G-Edit, lo conoscete, G-Edit è un editor di testo, poi un'applicazione per le immagini, Lollipop per i video, Maps per la navigazione, insomma per le mappe, Megapixel, l'abbiamo già vista, è per la fotocamera, poi ci sono le impostazioni, abbiamo addirittura due tipi di impostazioni, Mobile Settings e Settings, Strana come cosa? Cos'altro? La sveglia, l'orologio, eccetera. Va bene, questo è Foch, per spegnerlo, o per riaccenderlo, per riavviarlo, bisogna andare qua, e abbiamo Lock Screen, Restart e Power Off. Vabbè, direi che questo è tutto, rimangono solo da fare un paio di considerazioni, le mie considerazioni sono le seguenti, ci sono ancora molti problemi, i problemi principali sono dalle chiamate che potreste perderle, gli SMS idem, poi un problema è rappresentato alla batteria, purtroppo non dura quasi nulla, sono tutti problemi che in futuro verranno risolti, si spera, e a quel punto potrò utilizzarlo come mio smartphone principale, come mio unico smartphone, al momento purtroppo non ci riesco. Cosa si può fare a momento attuale? Beh, utilizzarlo come un vero e proprio computer, vi ripeto, potreste anche installare Blender, fare del rendering video, farci tutto quello che volete, è un sistema operativo completo, non è un giocattolino, poi abbiamo il terminale, quindi potete farci tutto quello che fate con il terminale su Linux, e cos'altro? Potete connettervi, potete maneggiarlo tramite SSH, quindi se non vi va di scrivere dei comandi con la tastiera virtuale dello smartphone, potete comodamente scrivere dal vostro computer e stare connessi tramite SSH. Va bene, direi che questo è tutto, per oggi farò un nuovo video sul Python Pro nel caso in cui ci siano delle novità. Spero che ce ne siano a breve. Va bene, ciao dal vostro Clarintux. Ciao